attenzione perché parte il nuovo progetto della juventus ea raccontarci le prime indicazioni le primi i primi movimenti e le prime mosse di giuntoli ci pensa nicolò schiera direttamente il uno dei guru del calcio mercato ci informa su quelle che sono le operazioni ma sotto una notizia che ha a che fare con un contratto di un certo tipo in casa juve quindi scopriano dettagli di che si tratta qui su fcm di uno sport come sempre vi ricordo di rimanere aggiornati tramite l'iscrizione al canale tramite l'attivazione la campanellina su fcm new sport qui è totalmente gratuito quindi non vi costerà nulla seguire gli aggiornamenti sulla juventus e allora andiamo alla notizia perché nicolò schiera ci aggiorna su quella che la situazione juve partendo intanto dal primo punto che è il più importante la juventus ha fatto firmare a cristiano giuntoli appena liberato su ufficialmente dal napoli un contratto di cinque anni un contratto di cinque anni che evidentemente segna quella che è un po la linea segna un nuovo percorso se tu sei insicuro sull'acquisto di una determinata figura che sia un giocatore che sia un allenatore che sia un dirigente non gli fai un contratto di cinque anni ecco questo è già un attestato di stima importantissimo gli stanno facendo capire che c'è avrà tra le mani un progetto serio che va oltre anche quella che la figura di massimiliano allegri perché ricordiamoci che allegra un contratto problema fino al 2025 quindi tra due anni mentre giuntoli rimarrà tre anni in più ma attenzione novità che da nicolò schiera questo punto di vista interessante perché il quinquennale non sarà di un milione e mezzo come si diceva prima ma addirittura di due milioni e mezzo quindi due milioni e mezzo stagione per giuntoli per lavorare juventus credo fondamentalmente che il tutto sia avvenuto così cioè inizialmente il contratto previsto era un quinquennale da un e mezzo le rinunce varie di giuntoli al napoli e quindi la rinuncia alcune mensalità rinuncia alcune bonus premi per lo scudetto che ammontano a quasi 4 milioni sono un po pesati nella scelta dei giuntoli sicuramente giunto il suo procuratore avranno in qualche modo parlato con la juventus facendo capire signori noi qua rinunciamo a dei soldi importanti quasi 4 milioni per venire qui alla juventus dobbiamo pretende e pretendiamo qualcosa in più è di fatto secondo me quei 4 milioni circa che mancavano dal napoli la juventus raggiunti facendo piuttosto che un anno un quinquennale a uno e mezzo un quinquennale da due e mezzo ma attenzione perché il primo compito di giuntoli sarà ovviamente non tanto quello degli acquisti quanto quello di eliminare diciamo vari giocatori e sono tanti perché giuntoli ha parlato con la società ha detto da scesni fino a vlaovic non ci sono incedibili anzi molti saranno in vendita perché l'obiettivo è quello di alleggerire e non di poco il monte ingaggi e a rischio ci sono intanto gli esuberi e partiamo da quelli e poi andiamo a realizzare anche quelli che sono i cosiddetti big intanto partiamo dai primi giocatori infatti al 30 giugno 2023 hanno chiuso alla propria avventura in bianconero leandro paredes rientrato a spiaggito un anno di prestito un quadrato angel di maria e poi poi si apre uno scenario particolare intanto partiamo da quello che molti chiamano il pasticcio alexandro cioè alex anti potevi liberare di alexandro che guadagna 6 milioni e mezzo già quest'anno ma allegri ha fatto una sciocchezza una vera e propria sciocchezza cioè dare ad alexandro la possibilità di un rinnovo automatico a qua a 6 milioni e mezzo al raggiungimento di 35 partite da quel punto di vista poteva essere utilizzato gatti un po di più rugani o chi che sia e invece non è stato così ora in questo momento la speranza la grande speranza della juventus è quella di ricevere e si è bociperato ma ancora non c'è un'offerta ufficiale un'offerta vera e propria dalla rabbia per alexandro la rabbia sta cercando evidentemente delle figure delle figurine più dei calciatori e alexandro comunque un giocatore della juventus nazionale fratelli nazionale brasiliana quindi potrebbe in qualche modo questo essere un obiettivo intanto quando si parla di esuberi si parla di alexander quindi si aspetta la rabbia mesi parla anche dei rientri e quindi il primo supero c'è stato abbiamo detto di diciamo curuseschi abbiamo detto dei parametrizzi che sono stati via e quindi quadrato abbiamo detto di quelli che rientrano dei prestiti e di di maria quelle che rientra ai prestiti come paretes non riscattato ma poi andiamo agli esuberi veri e propri intanto i rientranti perché parliamo di artur melo che ha un ingaggio pesante 5 milioni e mezzo per artur melo un centrompista di 26 anni di difficile collocazione diciamoci la verità poi c'è il nome i denis zaccaria che sono è molto più abbordabile come cessione perché guadagna 3 milioni e mezzo è un centrocampista anche lui di 26 anni quindi sono l'aspetto positivo è che c'erano delle età abbordabili non sono dei trentenni ecco questo è già un aspetto positivo aggiuntoli dovrà essere dato il compito di gestire questa situazione al meglio un po come fatto al napoli in questi anni ecco lo dove fare anche la juventus e poi anche questo mckenny l'abbiamo detto anche lui rientrante dal prestito lì non è andato bene ora anche lui ha un 2 milioni e mezzo di ingaggio e 24 anni quindi sono dei giocatori e zaccaria e mckenny sono giocatori sono è che con una figura come un ds come giunto li puoi vendere perché un giunto lite li vende questi giocatori sarà un po più complicato artur melo su cui ci sono due possibilità o rientro in brasil a titolo definitivo o in prestito addirittura si parla anche di recessione contrattuale vedremo che linea e che politica avrà proprio il il nuovo ds avventus giunto abbiamo detto di alexandro si sperano in offerta alla rabbia speriamo che possa quest'ultima anche senza chissà quali grandi introdite per i venti ma comunque liberare la juve da questo ingaggio mostruoso delle 6 milioni e mezzo e poi ci sono altri due nomi che sono andati a finire nella nuova agenda di giuntoli come dei giocatori che potrebbero lasciare anzi sono tre in realtà il primo è quello di leonardo monucci guadagna 6 milioni e mezzo guadagna troppo a 36 anni ha fatto vedere che ultimamente non ce la fa più né un punto di vista fisico da un punto di vista tecnico sia le ultime partite nazionale che le ultime partite da juventus hanno dimostrato questo limite che in questo momento ha ormai leggendario mi veniva dire difensore della juventus è chiaro che anche da quel punto di vista qualche sirena straniera potrebbe affascinare il difensore a cui comunque è stato detto sei abbastanza fuori dal progetto quindi guardati intorno gli altri due nomi sono due nomi che di cui abbiamo parlato il primo è scesni guadagna anche lui 6 milioni e mezzo secondo me la juventus o meglio giuntoli poteva fare come ha fatto qualche anno fa o meglio l'anno scorso con o spina cioè liberare o spina e dare fiducia al secondo cioè meret morette sembrava un portiere che non aveva chissà quale grande fiducia un portiere che aveva bisogno un po della spinta di qualcuno per poter emergere ecco la spinta di ad aggiuntoli ha levato spina e non gli ha preso un sostituto si parlava di che il ornavas il tutto dal posto di spina e invece fiducia meretti che ha fatto un'annata straordinaria ecco questo potrebbe fare la juventus vendere il primo che ha un ingaggio pesante esattamente con la spina scesni a 6 milioni e mezzo e dare fiducia a perin questa è un'altra soluzione occhio perché un altro l'ultimo degli esuberi che giuntoli vuole vendere e daniele rugani anche lui un'età abbordabile che sta parlando di un ragazzo che anche lui ha 26 anni ha un ingaggio di 3 milioni e mezzo secondo me corrugare bisognerebbe in qualche modo cioè lui stesso dovrebbe accettare un po un abbassamento dell'ingaggio per poter andare una piazza mi viene in mente firenze mi viene in mente anche la stessa lazio che gioca la champions anche se c'è il duo casale romagnoli che sono di alto livello ma ci sono delle piazze in italia mi viene in mente sempre la fiorentina che sono è perfetta come contesto per perdere i rugani non troppe pressioni però sarebbe un contesto perfetto certo dovrebbe e dimezzarsi l'ingaggio però tutte queste figure sono nell'agenda nella nuova agenda di giuntoli che tinta di bianco nero e che ha il compito di alleggerire proprio il monte ingaggi e quindi a rischio ci sono non soltanto i famosi big come vlavic e chiesa compagnia ma soprattutto questi esuberi che sono stati individuati da e giuntoli come giocatori che devono assolutamente andare via ditemi la vostra soprattutto su quello che è la scelta di vento squinquennale da 2 milioni e mezzo aggiuntoli parliamone qui sotto nei commenti